Sono episodi che capitano, questa è una popolazione che sopporta molto e a volte si rimane anche in silenzio, non si denunciano le cose. Questo del dottor Castellucci è l'apice di tanti altri episodi che sono avvenuti, non è possibile nel 2019 che ci sia questa trascuratezza nei nostri territori e questa secondo me mancanza di prospettive che possono dare una speranza, perché poi parliamo, 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 qui la gente deve avere una speranza per poter rimanere qui. Invece noi vorremmo mantenere quello che c'è adesso, quindi una prima ambulanza medicalizzata che parte da Cagli, mantenere questa seconda che appunto è 15 giorni parte da Cagli e 15 giorni parte da Fossombrone, da Reperibile e con l'infermiere, chiaramente, e poi potenziarla magari ampliando quelle convenzioni che già l'Asur ha, faccio esempio noi abbiamo la Croce Rossa qui a Cagli, ma non con delle ambulanze gamma, con dei volontari che per quanto possano essere bravi non possono poi intervenire, non possono far nulla al paziente se non quello di defebbrillare, è l'unico caso che possono veramente. Quindi quello che vorremmo è che la Regione ampliasse questa convenzione, magari mettendo la Croce Rossa potrebbe mettere a disposizione il mezzo e l'autista, e l'Asur un infermiere professionista, caturno, quindi sempre coprire, e coprire questo tutto il giorno. Non lo vogliamo coprire 24 ore su 24, lo vogliamo coprire 12, magari facendo delle statistiche, qual è, durante il giorno succedono più casi, però assolutamente va potenziata e questo potrebbe essere secondo noi un metodo economico e che può dare nell'immediato delle risposte importantissime, come la riapertura del punto di primo intervento, che è una cosa che è da ciechi, secondo me, non capire che è la cosa più immediata da fare, più semplice, anche per poi dare spazio, dare sfogo agli ospedali un po' più grandi.